Buongiorno e bentrovati con il nostro quotidiano appuntamento con la nostra rassegna stampe. Come sempre iniziamo dalla lettura dei nostri quotidiani locali. Altra notizia in apertura si parla della differenza dei trasporti per quanto concerne i bus tra nord e sud. Poi si parla dell'emergenza sul lavoro, ancora morti e feriti dopo la tragedia di Minervino dove è aperta un'indagine. Ieri un altro morto nel Foggiano sul lavoro e poi un ferito a Torre San Giovanni, un operaio di 60 anni e precipitato dall'impaltatura e attualmente si trova ricoverato in ospedale. Poi ancora emergenza caldo, emergenza sul lavoro, si inizia a parlare di cassa integrazione e smart working. Ma adesso vediamo nel dettaglio la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Lavoro bollente, emergenza per l'ondata di caldo, via libera alla cassa integrazione anche sotto i 35 gradi in ufficio e nelle campagne. Sotto l'embrellone la folla da sagra e non ti senti solo, a marcordi il panino, gli amori la vita. Morte di purgatori, l'inchiesta accelera indagati due medici familiari a maggio diagnosi di cancro, a giugno la malattia era in remissione. All'interno, a sud, più servizi che industria, la terza vede l'opportunità ZES. Cinema, effetto, Taranto a Venezia, la mostra apre con Comandante. Zaghi intanto rifiuta il volo di Stato, slitta il suo ritorno in Italia. Lo sport, bar in mani brasiliane, Brenno, l'erede di Caprile. All'interno, l'estate rovente, le soluzioni possibili, via libera alla cassa integrazione anche sotto i 35 gradi, direttive IMS per lavori all'aperto, in ufficio ma anche nei campi. Sia l'integrazione salariare in tutti i casi in cui venga disposta la sospensione o riduzione delle attività se esistono pericoli per la salute. Il caldo è come il Covid, bene lo smart working, così il presidente di Confindustria Bonomi. Trafa asfissiante e maltempo, bufere al nord, ma al sud Caronte non molla ancora la presa. E ancora l'estate rovente, come gestire l'emergenza, ma quanto soffrono gli animali domestici. Occhio soprattutto a molossoidi e brachicefali, gli amici a quattro zampe a causa del clima africano rischiano gravi problemi di salute se non si adottano alcuni accorgimenti. E poi ecco l'app per individuare le fontanine dell'acquedotto pugliese. Come funzionano i bollini rossi del lavoro e con i luoghi dove va evitata ogni occupazione all'aperto. Cambiamo argomento. Roma-Bruxelles la trattativa sui fondi, terza rata PNRR entro l'estate, ma l'Unione Europea attende le modifiche. Mancano solo i controlli formali, saranno erogati 18,5 miliardi previsti. Il governo non dovrà più dimostrare di aver creato 7.500 posti letto ex novo, ma di aver avviato il lavoro in vista della creazione di 60.000 alloggi entro il 2026. L'intervista, tutto campo tra politica, civismo ed economia, a sud più servizi che industria, le ZES opportunità positiva. La terza dice, in Puglia si discute del terzo mandato, tema con poco appeal. E ancora la politica. Il dibattito tra i democratici, PD impari dagli errori, decaro elemento di Bonaccini che lancia la non corrente riformista del Partito Democratico. L'energia popolare, l'area che si riconosce nel governatore dell'Emilia Romagna, guarda con attenzione alle istanze di partite IVA e mondo delle imprese. Lega la politica, ora freni la fuga dei cervelli. La nota è del deputato Bellomo. Mantovano, la memoria di Borsellino, antitodo per sradicare la cultura mafiosa. E adesso andiamo avanti con la prima pagina della Gazzetta del Salento di Lecce e Brindisi. Brindisi, al Parrino, reparti senza aria condizionata, emergenza caldo, la CGL, documenta la situazione e denuncia ai NAS. Lecce, opposizione all'archiviazione dell'inchiesta per i morti di Covid. Taglio basso. Togliete il mega manifesto dalle mura urbiche di Lecce, la protesta di due consiglieri comunali. E ancora all'interno, Salento in bus tra pericoli e più di qualche disservizio. Un'inchiesta sulla morte bianca a Minervino, presto gli indagati. Brindisi, sollecitati controlli su interventi arneo da 2,2 milioni. E ancora a Brindisi, gara rifiuti, il PD invita il comune a vigilare, segnalate numerose anomalie nel bando. All'interno, Brindisi, climatizzatori fuori uso in cinque reparti. La CGL denuncia in assa all'ospedale Perrino, segnalata un'altra situazione pericolosa. Le grate degli impianti di areazione sporchi, rischio di malattie, perde genti e personale. E ancora catastrofe sanitaria a Brindisi. I dodici comandamenti da seguire. La vaccinazione anti-Covid, constata quasi 2 milioni all'Astri di Lecce, si ha dato il conto delle competenze spettanti al personale sanitario che si è prodigato e che ha permesso di uscire fuori dall'incubo pandemia. Salento in bus, odissea di giovane diretta al mare. Fermate la Smignut senza adeguata segnaletica. Un servizio che deve essere sicuramente migliorato. E poi il commento, una situazione che deve far riflettere il sistema locale dei trasporti, il potere politico dei territori e la bassa redditività degli interventi. Questo è l'intervento di Guglielmo Forges, d'Avanzati, docente di Economia Politica dell'Unisalento. L'interpellanza e i dubbi di due consiglieri comunali. Quelle norme manifesto deturpa le mura urbiche. E quanto si chiedono, ma è tutto legale, e quanto si chiedono, Giampaolo Scorrano e Battista, che hanno sollevato la questione, chiamando in causa la soprintendenza. Oncologia, no all'archiviazione per le morti dei pazienti affetti da Covid. I protagonisti, la mia bisnonna, è stata la prima postina del Salento. Francesca Giannone racconta la portalettere vincitrice del premio Bancarella. Un best-seller, il romanzo racconta la storia di Anna Allavena, che negli anni 30 dalla Liguria si è trasferita a Lizzanello. Area pedonale, incontro sul Politeama dopo l'appello degli attori. La direttrice artistica dice, beh lieti di poterci confrontare con il sindaco. In calo gli abbonamenti perché molti spettacoli sarebbero a rischio qualora non si cambiasse il progetto del comune. Operaio schiacciato tra due tir a Minervino, e ora la Procura vuole vederci chiaro. Inchieste parallele. Centro procreazione assistita, passo avanti della struttura di Nardò, il Tarbari ha respinto l'istanza cautelare della società concorrente. La vicenda penale è quella che ha coinvolto l'ex assessore al welfare della Regione Puglia, Salvatore Ruggeri. Le reti per tutti, connessione ad internet più facile a Salice e Salentino. La comunità di specchi accoglie le reliquie del compadrono. è ancora assegnata a copertino la gestione del parco della Grottella. Otranto, programma per arrivare alla piena fruizione dell'area di Porto Badisco. È uno degli obiettivi a cui si punta nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche. Passaggio di campana per i Lions, il club Salento senza barriere, legge Rollo, presidente e programma le prossime iniziative. A Brindisi, gara rifiuti e anomalie, PD interroga Marchionna, Canalire invita l'amministrazione ad approfondire tutta la situazione. Trofeo dell'Adriatico e del Marrionio, tornano i vogatori rimuri Brindisi, spettacoli e tradizioni assicurati nel porto domani a partire proprio dalle ore 10. E adesso andiamo avanti con la prima pagina del nuovo Codiano di Puglia, edizione Lecce. In nord va in bus e in sud in auto, trasporti l'altro costo dei divari, il report Istat sull'efficienza dei sistemi locali di mobilità, i comuni, via alle opere. Cantieri, altri due morti e un ferito, sul lavoro una mattanza senza fine, Puglia listata a lutto, inchiesta su Minervino. Buffera sulla regione, voto segreto in aula e bocchie cucite per un'indenità che vale 4 milioni. Lecce verso il voto, Maraschio divisi saremo sconfitti, come a Brindisi, uniti su Salvemini. Costruire a 300 metri dal mare, il divieto non è di tipo assoluto. Il Consiglio di Stato conferma l'orientamento, altri i criteri. Gallipoli la protesta, SOS da Baiaverde, tra cause e pericoli, impegni disattesi. Studentati, bandi e progetti per nuovi posti, la destinazione di edifici storici, ossia Garibaldi, Cimarussi e De Giorgi. Porto Badisco, grandi manovre per riportare splendore all'intera Baia. All'interno, trasporti Lumaca, il sud dimentica i bus, pochi e a breve distanze, e i divari vanno veloce. Ma i comuni intanto si difendono, gli investimenti reali sono appena cominciati. La parola agli assessori di Lecce, Brindisi e Taranto. A breve ci sarà una svolta. Negli ultimi due anni, pioggia di fondi, anche per via delle risorse del PNRR. In merito interviene il presidente Astra, Matteo Colamussi, che dice la chiave è l'integrazione tra mezzi di natura diversa. La regione ha fatto tanto. La tragedia, Cantieri, La Puglia, l'istata, lutto, due morti sul lavoro in poche ore. Le vittime sono un 62enne della provincia di Avellino che lavorava alle opere per l'alta velocità, un 60enne di torre maggiore schiacciato dal suo trattore. Oggi funerali, intanto del 55enne di Minervino, investito dal TIR. Politica, fine mandato, tutti tacciano, martedì in aula, il voto segreto, nessuna risposta alla lettera delle 40 sigle contrarie alla reintroduzione della liquidazione per i politici. Partiti di maggioranza e opposizione in silenzio, martedì in consiglio regionale, si profila il blitz, la strategia del governatore. Michele Laforge, avvocato, chiedano ai cittadini cosa ne pensano. La politica vuol dire responsabilità. Economia, laurea scientifica e poi via, un freno alla crescita, la ricetta di Svimez per consentire al sud una ripresa più robusta e duratura, sostenere le attività produttive ad alto grado di innovazione, accelerando su contratti di sviluppo e ZES e interrompere l'emorragia di giovani cervelli in fuga. Capocronaca di Lecce, la città che cambia, l'ex istituto Garibaldi rinasce, ora si accelera per lo studentato. La giunta Salvemini ha deciso di candidare gli immobili di proprietà comunale situato in Corte Conte a Cardo al bando di Invimit con cui il Ministero dell'Economia intende acquistare edifici in disuso su tutto il territorio nazionale. Nella Cimarussi 80 universitari, 18 alloggi con il restyling del Galateo. Maxi, cantiere alla De Giorgi, i primi 65 posti entro ottobre. Nella residenza universitaria Salisiani, lavoro in corso per il restyling della struttura. Fine intervento, spazio per 110 studenti. Palmiotta dice, prossimo step, l'ampliamento. Pesta patronale, a fine agosto c'è il bando per gli stali, la mappa delle bancarelle. La politica. Maraschio agli alleati. Ripartiamo da Salvemini, rilanciamo la coalizione. In vista delle amministrative del 2024, l'assessore regionale di sinistra italiana sollecita il centro-sinistra a chiudere la partita della candidatura sul nome del sindaco uscente. Medico e madre single. 53 chilometri per il lavoro. Non sono così tanti. Bocciato il ricorso del tribunale chiedeva il trasferimento a Lecce. L'ASL aveva preferito il collega. Lei lavora per un ente esterno. Covid. L'inchiesta non si archivi. Edificare 300 metri dal mare. Possibile divieto non assoluto. Emessa altre tre sentenze dal Consiglio di Stato conferma l'inesistenza di un vincolo perentorio. Dopo l'Euca, altri casi a Ugento, all'Ista e Italiano. Le domande dei privati dovranno essere rivalutate. Tricase, maxi sequestro di cocaina. Tra gli arrestati anche un uomo residente proprio nel Salento. Villa Convento, allarme furti. Parte la lettera al prefetto. Abbiamo paura. Non usciamo da casa. Baglia Verde. Trasporcizie a Risse. I residenti scrivono al sindaco un'associazione torna a sollevare le problematiche che si manifestano nella zona più prossima ai Lidi. Continua e urla, schiamazze, inquinamento. Le stanze di chi risiede, villeggia o lavora. Prima pagina del nuovo Codiano di Puglia, edizione Brindisi. Boss e padre ancora latitanti a setaccio tutte le vie di fuga dopo i blitz e le 22 misure cautelari. Fasano, morto in moto, l'addio e il figlio gli dedica la laurea. Taglio basso. La pedana è un gazebo per i disabili, all'ex Lido Poste in civili permettendo gli interventi dopo il passaggio degli scooter. Torna il trofeo dell'Adriatico, si voga sul lungomare tifando rumuri. Capocronaca di Brindisi. Il programma potenziamento della differenziata e la spinta delle energie rinnovabili. Le linee programmatiche illustrate al Consiglio Comunale dal sindaco Marchionna dedicano un capitolo ad una delle tematiche più controverse del territorio. C'è la volontà di realizzare impianti di compostaggio. Nel Castello Svevo l'incontro intanto fra i ministri. Lega Ambiente la priorità le bonifiche siamo al 10% Italia Nostra che in riciclo. Le associazioni ambientaliste critiche verso le proposte della nuova amministrazione. Frascino del WWF dice centrale la tematica della sostenibilità e delle energie green. Prima pagina del nuovo Codiano di Puglia edizione Taranto. Minerali dai camion per l'exilva le proteste e l'intervento del comune. E ancora la risposta ai numeri adi all'autori di traffici portuali in calo nel 2023. Accoltellato dopo la lite caccia l'uomo a lama ferito con diversi fendenti un 36enne la polizia cerca un giovanissimo. Scatta intanto la condanna via i sequestri case Rolex per oltre un milione. A Manduria sgarbi contro il depuratore questo paradiso diventerà un inferno. Capocronaca di Taranto minerali dai camion nel trasporto all'exilva interviene il comune cisterne di acqua per contenere la diffusione delle polveri nella zona. Attenzione allo sciopero dei lavoratori della Ettore 1910 per i mancati stipendi. A Ceglieri d'Italia risponde all'autore di traffici portuali in sofferenza nel 2023. giochi vertice ristretto per masterplan e fondi lunedì incontro con i ministri Fitto e Abodi commissario Ferrarese Emiliano e Melucci occorre fare il punto su progetti e risorse scongiurando rischi per la manifestazione. E adesso diamo lo sguardo alla prima pagina dell'edicola del sud piano contro i magistrati spunta De Benedictis salvatorio fascista per intimidire le toghe tra i presunti membri l'ex GIP e un avvocato barese le intercettazioni ci servono soldi e coperture per un organismo di livello nazionale le fibrillazioni della politica pugliese il TFM rischia di affossare tre leggi in bilico le proposte su fine vita transizione e omotrasfobia l'idea di Innali e CNR caldo i bollini per tutelare i lavoratori lo sfruttamento caporalato sette aziende nel mirino Lecce Torre Chianca nel degrado intervenite Brindisi S.O.S. allo zoo liberate gli orsi e andiamo avanti con la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno L'intervista troppa politica nel turismo il presidente regionale di Assotel è venuto dice strategie in funzione dei voti l'analisi sulla flessione di luglio abbiamo perso il visitatore della classe media Selvaggia Selvaggia lucarelli e la polemica sul taxi il conducente il posto non funziona il video diventa virale all'interno Golfo di Taranto acqua bollente tocca i 30 gradi poi altri due morti e un ferito sul lavoro commerciante accoltellato grave in ospedale da lunedì sabbia da sistemare torre e ghetta chiusa per 4 giorni all'interno l'emergenza climatica il Golfo di Taranto diventa bollente i pesci migrano nei mari del nord con l'ondata di calori di questi giorni l'acqua ha raggiunto una temperatura di 30 gradi cambiano la fauna itica e la vegetazione dei fondali aumentano i rischi di trombe d'aria la spiaggia arriva la nuova sabbia dall'unedì torreghetta chiude ai bagnanti stop per la sicurezza gli interventi dureranno 4 giorni l'affondo di Devenuto la Puglia senza strategie ecco perché i turisti vanno in Grecia o Albania il presidente regionale di Assotella analizza il calo di luglio dovuto ai rincari mancano i manager per fare promozione serve una cabina di regia con gli imprenditori in basso il caso rifiutato il posto per pagare i taxi a Bari è polemica la denuncia di Selvaggia Luca Relli Taranto circondato dal branco e poi accoltellato grave un commerciante aggressione dopo una lite feritore e un minorenne colpito da un cavo mentre è sulla gru muore nel cantiere dell'alta velocità l'altra vittima a Torre Maggiore operaio ferito anche a Ugento prima pagina di Repubblica edizione Bari blackout per il caldo via il piano sanità il governatore pronto a misure straordinario ospedale in difficoltà Asclepios 3 per i codici calore il racconto cantieri di notte per vincere la fedura abituarsi a questi ritmi il PD nazionale frena sul TFM una decisione impopolare i vertici romani chiedono ai dem pugliesi di rinviare la discussione in regione sul trattamento di fine mandato ai consiglieri contro il quale protestano Confindustria CGL e tante associazioni il caso il progetto fascista anti-PM spunta anche De Benedictis col suo avvocato le motivazioni della sentenza a Torino Emiliano assolto grazie ad una chat Stefanazzi il tramite con la DISA e adesso andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani nazionali iniziando come sempre dal Corriere della Sera Zacchi polemica per il no all'aereo del governo slitta rientro il ricercatore dice piani cambiati il caso tutte le modifiche al PNRR dagli asili ai treni e a Cinecittà la corsa per rimodulare i progetti entro agosto il leader leghista lo querelo scontro Saviano Salvini centrodestra dice via dalla RAI e ancora i politici la magistratura e la mezza pera di Einaudi una riforma a costo zero in maltempo tornado grandine fulmini e Milano piomba nel buio prima pagina del giornale iniziamo a parlare di follie estive il caldo dà alla testa Bonomi fa l'ultra ecologista emergenza come il covid servono smart working e casa integrazione delirio Bonelli creare reato di negazionismo climatico caccia ai Berlusconi fango su marina ma lei chiude le polemiche rispetto la Meloni tutte le agrobazie di Zacchi per non salutare i suoi salvatori e poi ancora Saviano insulta ancora Salvini centrodestra via dalla RAI Di Maio bugiei sui visti rubati in Pakistan e ancora fratelli d'Italia convergenze per confermare la Fondel Leyen il sole 24 ore caos taxi il piano del governo Italia laboratorio per l'industria del cinema e ponte verso il Mediterraneo ITA oltre un miliardo di fatturato ma conti sempre il rosso a Leonardo il 74% dei fondi dell'Unione europea 18 piani per 600 milioni prezzi calmierati da urso patto con i consumatori libero schiaffo ai suoi liberatori compagno Zaghi datti una calmata ha confermato il rifiuto Patrick non vuole incontrare la Meloni però festeggerà col sindaco PD e la sinistra intanto applaude colpi di calore legge Bonelli o sei ecologista o vai in galera vendola accuse il ministro di nazismo bottura in venta le stragi di Almirante e poi ancora il documento contro il premier ha toppato tutte le profezie liti con Giorgia inventate la sinistra prova a usare Marina B e prende delle sberle questo è l'intervento di Pietro De Leo scoppia rivolta anti Saviano lega fratelli d'Italia ora lasci la RAI ancora Davigo si converte e arruola l'avvocato iper garantista il racconto di Donna Rumma i miei attimi di terrone di terrore in mano ai rapinatori il fatto i sindaci PD con Nordio contro UE e Mattarella ignorano i moniti dall'alto per mantenere il delitto le vanterie dei neri amici del governo inchiesta stragi la procura milanterie e ancora Santacchè e Visibilia l'ex dipendente a Ciac Forbate su aiuti anticrisi l'ultima sciocchiezza salario minimo e assistenziale Repubblica il caldo come il Covid allarme del presidente di Confindustria Bonomi protegge i lavoratori con casa integrazione smart working come durante la pandemia arriva il sistema di allerta bollini rossi per segnalare condizioni estreme Lombardia colpita da trombe d'aria ingradinate Meloni apre sul salario minimo sia al confronto ma con prudenza Zaki no al volo di stato slitta il rientro in Italia guerra in Ucraina nel tour di pace Zuppi vola in Cina dobbiamo cercare tutte le vie e ancora non bastano le buone intenzioni Giorgia e Marina la convivenza difficile delle gemelle diverse e adesso passiamo allo sport con la prima pagina della gazzetta dello sport Lukaku chiede il perdono dell'Inter in ginocchio da te Corriere dello Sport il gran rifiuto Lautaro no all'offerta shock degli arabi 240 milioni in 4 anni il campione dell'Inter preferisce la carriera a una montagna di soldi Corriere dello Sport della Puglia Bari Gran Colpo Brenola a qualità l'esperto durante dice l'ho visto giocare diverse volte ha tutto per imporsi anche in Serie B l'Arabia chiama Sisee il Lecce dice sì in trecci da gol tra i coschi tra le opzioni per sostituire il Gambiano David Fagli straordinari oggi Doppia amichevole alle 11 con Riva del Garda alle 17 e 30 con Rovereto il Taranto si prepara a calare un po' che nelle prossime ore i dirigenti del soldalizio rosso-blu dovrebbero annunciare l'arrivo alla corte di Capuano dei giovani Bonetti Calvano Carnevale e Condai Brindisi fall alla corte di Danucci per Opola manca intanto l'accordo Serie C Virtus Francavilla continua la caccia a due portieri Nuoto De Tugli e Pilato guidano la pattuglia pugliese avvia domani il mondiale in Giappone Tarantino impegnata nei 50 stile libero Marco invasca domani per i 400 e Sele in Giappone anche fratello Luca Basket Serie A Brindisi in Serbo un altro colpo per Senglin è solo questione di ore Sala e Gaetani ci sarà anche un po' di Puglia alle Universiadi e questa era la nostra ultima notizia la nostra Rassegna Stampa si conclude qui grazie per averci seguito e buona giornata a tutti un po' di Puglia di Puglia di Puglia di Puglia